Ciao a tutti! Ecco, questo è il make-up che ho pensato di proporvi per la super serata di San Valentino. È un trucco un po' intenso, ma anche elegante. Spero vi possa piacere. I prodotti che ho utilizzato per questo make-up sono Star System nella colorazione light neutral, Sculptress, Bloomerang, Correttori e ristretto concealer nella colorazione fair e light, Manga Browse arancione per le sopracciglia, Fluffy Matte e Velvet Bronze, Mineral Blush Summertime, Passello Occhi, Ebano e Liquirizia, Come ombretti, Pille, Croissant e Ori Calco, Sulle labbra, Ruby Juice nella colorazione tomato. E adesso vi lascio al video. Inizio prendendo Star System e andandolo ad applicare su tutto il viso. Dopodiché, prendo il pennello Crimson Diffuser e lavoro il prodotto uniformemente. Creo un pochino di sculpting con Sculptress. Uso sempre il Crimson Diffuser, prelevo direttamente il prodotto e lo vado a stendere nelle parti interessate. Io in questo caso vado a scaldare la zona zigomatica. È il turno del nostro ristretto. In questo caso io vado a usare il Light e come al solito faccio i miei quattro micropuntini nella zona appunto dell'occhiaia. E munita di Sky Corrector, lavoro appunto il nostro correttore, prima pressandolo e poi sfumandolo. Super Blush Bloomerang. E anche questa volta vi faccio utilizzare il Crimson Diffuser. Vedete, io sono andata a prelevare il prodotto direttamente dallo stick e lo vado a stendere nella zona zigomatica e questa volta anche un pochino sul nasino per fare questo effetto imbarazzato. Fluffy Matte, stesa con il pennello Mint Tapered. La vado a prelevare e la vado a stendere su tutto il viso in maniera uniforme per andare a settare appunto tutti i prodotti in crema che abbiamo messo precedentemente. Lei è perfetta anche per il contorno occhi essendo appunto una cipria naturale. Momento sopracciglia. Io vado a utilizzare la Manga Browse nella colorazione arancione. Prima vado a pettinare il pelo nella direzione che mi interessa e con la punta più chiara inizio a fare la base insomma della mia arcata sopraccigliare. Piano piano, come sapete, piccoli trattini. Dopo aver dato forma a tutte e due le sopracciglia appunto con la colorazione più chiara prendo la punta più scura e vado a creare letteralmente le sfumature per creare più tridimensionalità. Prelevo peel con il teal blending. Lo vado a stendere tra la fine della palpebra mobile e l'inizio della palpebra fissa per iniziare appunto a tonalizzare. La sfumatura la vado a realizzare sfumando verso l'interno e verso l'esterno e con movimenti circolari. Inizio la costruzione di questo smokey eyes con la pastello color ebano che vado a stendere su tutta la palpebra mobile. Vi ricordo sempre di fare molta attenzione all'attaccatura delle ciglia e all'inizio e vado a creare come una sorta di mezzaluna. Munita di azalea shade inizio a picchiettare per sfumare la nostra pastello color ebano. Come potete vedere io quasi picchietto sul posto senza spostare effettivamente troppo colore ma andando a ridurre quella che è la linea netta. Sfumo per ottenere l'effetto desiderato. Come primo ombretto utilizzo croissant. Lo prelevo con il nostro azalea shade e lo vado a tamponare proprio sulla matita che abbiamo sfumato precedentemente. Adesso è di nuovo la volta del nostro teal blending che ci permette di andare a sfumare nuovamente croissant per evitare stacchinetti di colore. Uso ebano per andare a scurire anche la rima cigliare inferiore. Io preferisco non andare mai troppo dentro ma andare semplicemente a scurire tra le ciglia. Con il pennello Honey Smudge vado a sfumare la riga che abbiamo appena fatto e la vado a unire con la sfumatura della palpebra superiore. Ora è il turno di liquirizia che mi serve per andare a intensificare ancora di più il mio sguardo. La passo in questo caso nella rima cigliare superiore proprio all'attaccatura senza lasciare buchetti bianchi. Inoltre vado a intensificare anche la rima cigliare inferiore. Sempre munita di Honey Smudge vado a sfumare la pastello liquirizia. Con piccoli trattini riesco a fondere il colore nero insieme al colore croissant che abbiamo applicato prima. In questo caso per andare a fermare nuovamente la nostra pastello riprendo croissant e vado a ritamponare appunto il colore con la zalea shade sia sulla palpebra superiore sia nella rima cigliare inferiore. Il segreto di questo make up sta proprio nella sfumatura e quindi riprendo til blending e vado a sfumare nuovamente il tutto. di nuovo ristretto concealer in questo caso però nella colorazione fair faccio tre puntini li risfumo con lo sky corrector in questo caso mi serve per andare a illuminare completamente il make up. Ho scelto ricalco per dare luce a questo make up lo vado ad applicare con un polpastrello e lo vado a tamponare esattamente nella parte centrale e all'inizio della palpebra mobile. Immancabile black bubble che vado ad applicare sia sulle ciglia superiori che ovviamente quelle inferiori per uno sguardo super magnetico. Scaldo il viso con velvet bronze e mint tapered. La vado a stendere esattamente dove io ho applicato prima scalp dress. Prelevo il mineral blush summertime con il pennello magenta sculpt e lo vado ad applicare nella zona zigomatica dove prima avevamo applicato bloomerang. In ultimo decido di coprire questi due brufolettini di gioventù con il ristretto nella colorazione fair. Lavoro il prodotto prima con l'emeral shader e poi lo vado a sfumare con un polpastrello. Decido di dare un tocco glam a questo make up con il ruby juice nella colorazione tomato. Lo vado a stendere bene su tutte le labbra ma dal momento che ho deciso di avere le labbra molto intense il ruby juice lo andrò a stendere più di una volta. Più o meno le passate saranno due o tre. Come sapete bene la nostra lip stain più la passi più va a intensificare il suo colore. Spero che il video vi sia piaciuto spero che il make up vi sia piaciuto e adesso prima di salutarvi vi faccio vedere chi sarà il mio accompagnatore della serata. Il mio cavaliere sarà Thor perché la cosa importante nella vita è amarsi. Non importa con chi ma amatevi. Buon San Valentino. Saluta un po'. Buon San Valentino! No transferere. Vero.